Siamo dal fatto che tutti sappiamo qual è la situazione drammatica anche in cui ci troviamo, soprattutto i giovani, le percentuali, le inchieste fatte sulla disoccupazione sono noto a tutti. Allora è inutile stare lì continuamente a ribadire queste criticità, ma vogliamo, partendo dalle criticità, fare delle proposte concrete, reali, che cioè diano realmente lavoro, lavoro ai giovani, attraverso che cosa? Attraverso una collaborazione tra quelle che sono le esigenze da parte civile e da parte ecclesiastica.